Mia mamma dice che devo stare tranquilla, perché gli esami nella vita non finiscono mai. Ma per costruire il mio futuro, devo scegliere meglio nel presente. Per questo ho scelto l'Università Online e Campus. Scegliendo l'Università e Campus, scegli le lezioni online per studiare quando e dove vuoi, corsi tradizionali e tanti corsi innovativi per coniugare la tua passione con le nuove opportunità offerte dal mondo del lavoro. Ma con l'Università Online e Campus, scegli anche il rapporto diretto con i tutor e con i docenti. E per prepararti in vista degli esami, puoi partecipare a lezioni Full Immersion. Ecco, adesso tocca a me. Per maggiori informazioni, chiama il numero verde 800 410 300 o vai sul sito uniecampus.it. Per maggiori informazioni, chiama il numero verde 800 410 300 o vai sul sito uniecampus.it.